Ciao a tutti, in questo video voglio parlare del nuovo ordine mondiale, cosa ne penso? Beh, intanto, allora, prima di parlare di un nuovo ordine mondiale, bisogna parlare del vecchio ordine mondiale o dell'ordine mondiale attuale, che probabilmente è una fase di transizione dal vecchio al nuovo. Allora, il vecchio ordine mondiale su cosa era basato? Era basato su un modello contrappositivo, di stati contrapposti, il modello, diciamo, URSS, ex Unione Sovietica, contrapposto agli Stati Uniti e c'erano quindi un modello, potremmo dire, bipolare, perché il mondo si articolava, diciamo, su questi due poli e all'interno, diciamo, di questi due poli vi erano degli stati sovrani, ovviamente, degli stati sovrani e l'economia era un'economia molto più locale, cioè nel senso che le produzioni avvenivano comunque in loco e il consumo spesso avveniva in loco, sicuramente con delle esportazioni, con delle importazioni, però molto più limitati. Inoltre vi erano diverse aziende, ovviamente, produttrici, spesso in competizione tra loro, quindi le varie aziende, anche micro aziende, diciamo, che producevano e commercializzavano in tutti i settori. Quindi in ogni settore c'era questa, diciamo, produzione, come dire, centrata all'interno di un paese. Quindi esisteva una macroeconomia, ma anche una microeconomia, fatta, ad esempio, di piccoli imprenditori, piccoli commercianti che producevano oppure distribuivano prodotti. Ovviamente al di fuori di tutto, al di sopra di tutto, diciamo, e già ricominciavano a esistere delle reti finanziarie, le varie banche nazionali o transnazionali. Però diciamo che c'era anche qua una rigida suddivisione, fondamentalmente. Il nuovo ordine mondiale inizia a generarsi, invece, in modo più concreto, nel 1989, con la caduta del muro di Berlino, quando, diciamo, viene meno l'antagonista, che era l'URSS. E quindi il mondo tende a andare, tende a diventare da bipolare a monopolare, ad egemonia americana. Diciamo che gli Stati Uniti diventano, e parzialmente sono ancora oggi, leader, diciamo, a guida del mondo, da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista militare. Le cose però poi iniziano un po' a cambiare, perché con la caduta del muro di Berlino e la caduta delle contrapposizioni, l'economia, diciamo, che tende a sbilanciarsi un po' anche... Nasce un terzo polo economico, diciamo, che è un secondo polo economico molto importante, che è il polo cinese, e il polo cinese che mette anche in crisi l'egemonia americana, perché il polo cinese inizia a produrre, e inizia, diciamo, ad uscire fuori allo scoperto con sistemi di produzione molto più bassi. Però c'è un altro fatto che, a livello storico, influisce poi tantissimo, proprio in quegli anni, che è la nascita di... sono due i fatti fondamentali. La nascita di internet, lo sviluppo di internet, diciamo, e i flussi migratori. I flussi migratori perché con la caduta, diciamo così, del muro di Berlino e quindi di un polo sovietico, alcuni stati che prima erano controllati diventano, come dire, autonomi e iniziano a manifestarsi tutte le contrapposizioni interne. Nella stessa Europa, ricordiamo, ci fu la guerra dei Balcani in Serbia, in Bosnia, che non, diciamo, alle porte dell'Italia, tra virgolette. e, insomma, furono periodi in cui... di destabilizzazione. E in questa destabilizzazione acquisirono sempre più forza e sempre più potere quello che potremmo chiamare un gruppo di cosiddetti illuminati che poi alla fine sono le persone delle dinastie familiari, tra cui Rothschild, i Rothschild, i Morgan e altri, insomma, che gestivano le banche. E avevano, tra virgolette, in pugno molti stati perché già da tempo questo accadeva. I Rothschild, ad esempio, erano intervenuti con prestiti molto pesanti a molti paesi e quindi in qualche modo detenevano il debito di molti paesi e potevano controllarli da un punto di vista economico. Cioè sarebbero stati in grado di provocare, volendo, il default, il fallimento di quel paese. Ora, tutto questo, diciamo, tutto questo cosa comportò? Comportò un cambiamento. Un cambiamento verso quello che adesso stiamo definendo il nuovo ordine mondiale. Qual è la teoria? Quello che almeno si pensa vogliono questo gruppo di potenti della finanza, questa cupola, diciamo così, gli illuminati. Un mondo dove tutto appartiene a loro fondamentalmente. Quindi il nuovo ordine mondiale intanto deve prevedere più una contrapposizione perché quando c'è una contrapposizione c'è una divisione. Invece in una società più fluida dove non c'è la divisione tutta l'economia può essere accentrata nelle mani di questa cupola. Tra l'altro con collegamenti parentali insomma e anche con rituali di iniziazione esoterica comunque legata ad esempio ai rituali massonici. E quindi come dire la guerra viene fatta alle piccole industrie le piccole imprese ma anche quelle grandi che comunque non non si adattano o non diventano parte diciamo del del nuovo circuito e quindi si inizia con le crisi economiche hanno vari fallimenti di banche insomma tutta la crisi che ci portiamo ancora adesso perché durante la crisi ovviamente chi ha chi detiene i soldi chi ha soldi e quelle famiglie lì i soldi ne hanno veramente tanti comunque si arricchisce ancora di più e può acquisire sempre più diciamo controllo delle varie situazioni basta pensare basti pensare ad esempio a quello che sta succedendo adesso con Amazon Amazon che è iniziato come un portale di e-commerce ma adesso sta acquisendo veramente anche i siti produttivi delle varie delle varie cose che vende quindi continuando in questo modo Amazon sarà l'unico o come dire comunque sicuramente il principale negozio quindi tu vuoi comprare ovviamente adesso gli acquisti vengono fatti molto molto più frequentemente online tu vuoi comprare qualcosa e qualunque cosa tu vuoi comprare su Amazon la trovi questo porterà ovviamente sta già portando al fallimento e alla chiusura di piccoli siti produttivi che verranno comunque in alcuni casi chiusi in altri acquistati sempre da rappresentanti di questa cupola che li faranno entrare nel circuito globale per cui si avrà un diciamo un unico negozio fondamentalmente un unico negozio probabilmente si avrà un'unica banca che poi già più o meno diciamo le cose stanno in questo modo perché le varie banche in qualche modo tramite scatole cinesi accorpamenti vari riporteranno ad un'unica famiglia e l'obiettivo probabilmente a lungo termine un unico un unico stato un unico stato in cui molti diritti verranno meno non attraverso probabilmente un'imposizione militare o con la forza ma un controllo di elementi attraverso i media internet che diciamo da un lato all'inizio veicolava libera informazione veicola ancora oggi libera informazione se no ad esempio non potrei fare questo video però comunque sempre di più verrà per così dire già adesso come dire vi sono dei segnali che oramai hanno capito che il controllo di internet è quello che veramente può pilotare le masse e quindi i grandi portali stanno cominciando a fare delle modifiche ad esempio facebook ha individuato un nuovo algoritmo molto sofisticato per cui notizie alternative diciamo che siano esclusi un po' da questo nuovo ordine mondiale sì che tu le puoi postare diciamo così ma non gli verrà data visibilità perché internet è un qualcosa che sì che dove tutti possono postare anche se diciamo nuove leggi sulla privacy renderanno anche molto più difficile postare e lasceranno a diciamo ai grandi come dire ai grandi portali decidere cosa tenere o cosa non tenere però se tu posti qualche cosa che nessuno vede in realtà diciamo è come se fossi in una camera scura dove nessuno ti vede quindi se posti un diciamo un video un qualcosa una foto una frase una considerazione su facebook ad esempio che non viene considerata idonea diciamo così da questo nuovo questo nuovo algoritmo praticamente la vedrai tu e altri quattro gatti quindi non avrà assolutamente una diffusione mediatica invece altre altre notizie che vengono considerate notizie o diciamo informazioni o quello che è che vengono considerate allineate con un certo secondo una certa linea di pensiero a queste cose può aver data molta più diffusione per cui succederà che molte persone per avere diciamo visibilità e dovranno cambiare cambieranno spontaneamente diciamo tra virgolette le loro i contenuti che verranno pubblicati e ovviamente questo influisce moltissimo sulla popolazione e si avrà un come dire un asservimento delle masse già già oggi per acquistare le cose Amazon fa una politica molto aggressiva basta che tu compri una volta un qualcosa su Amazon e ti arriva la pubblicità dappertutto di cose magari simili a quelle cose che hai comprato o come dire prodotti che possono essere in qualche modo associati a quell'acquisto che hai fatto che pensano che possano interessarti ma non ti arriva sul portale Amazon ti arriva dovunque tu vada ad aprire ti arriva su Facebook quindi evidentemente l'informazione da Amazon passa a Facebook ti arriva su Google quando apri diciamo il portale di ricerca insomma in mille modi ti viene proposta sempre un qualcosa e quindi poi di ogni persona ad esempio sapranno per file per segno tutto ciò che le persone acquistano ma questo appunto per un intreccio anche di cioè le informazioni le diamo a noi mettendo mi piace un prodotto piuttosto che un'idea piuttosto che una frase qualcosa un'altra estrapolano veramente tutte le informazioni e ti passano un'informazione che ti condiziona perché diciamo così utilizzando il metodo della goccia la goccia scava la roccia cioè nel senso che instillano piano piano delle situazioni per cui alla fine siamo nella matrix in questa matrix in cui lavoriamo quindi diamo forza lavoro diamo energia per acquisiamo uno stipendio per cosa per ridare indietro lo stipendio sotto forma di prodotti a questa cupola di persone che poi in realtà saranno veramente poche che controlleranno i fili di tutto ora questa è una concezione che va combattuta in tutto questo ci sono altre cose che stanno utilizzando ad esempio i flussi migratori qua il discorso diventa molto più complesso magari farò un altro video dove si parla anche di questo perché un nuovo ordine mondiale prevede sicuramente una libera circolazione delle persone anche perché ovviamente da un punto di vista economico se tu prendi dei disgraziati poveracci che non sanno come sopravvivere e questi si adattano a fare dei lavori diciamo a fare degli stessi lavori a costi decisamente più bassi per cui molti dei diritti che erano stati acquisiti nel corso degli anni diciamo così nelle varie nazioni in Italia in Europa un po' meno negli Stati Uniti ma comunque anche negli Stati Uniti da parte dei laboratori fondamentalmente inizieranno a vacillare perché ci saranno questi antagonisti e ovviamente il nuovo ordine mondiale da quel punto di vista lì prevede un appiattimento verso il basso dei diritti anche perché come dire non un appiattimento totale io credo perché comunque persone alla fame non acquistano invece ci vanno persone che sono in grado anche di aumentare sempre diciamo così il patrimonio di chi però finisce col fatto che tu ti danni per lavorare poi ridai comunque i soldi indietro a chi te li ha dati per avendoti strappato l'anima tra virgolette il sudore facendoti lavorare però dobbiamo tenere presente che la soluzione secondo me non è quella di impedire diciamo ai migranti di muoversi e la soluzione sarebbe una soluzione molto più complessa che prevederebbe anche secondo me una gestione diversa della qualità della vita delle persone sul territorio comunque quello che penso al nuovo del mondiale sicuramente è che è un sistema diciamo di asservimento delle masse a livello globale e di appiattimento per cui questo nuovo ordine mondiale io credo preveda diciamo una una cupola ristretta di potenti che controllano tutto dall'energia al commercio a tutto quello che è possibile controllare lo controllano è una folta diciamo schiera di persone che hanno la sola funzione di dare le loro energie e questa forma di forza lavoro per mantenere questo sistema a cui verranno date delle illusioni non le illusioni tecnologiche le illusioni ma a cui verranno veramente piano piano tolti i diritti credo che il contrastare tutto questo non passi attraverso il blocco dei flussi migratori ad esempio la cosa fondamentale è una nuova consapevolezza internet poteva essere sicuramente una soluzione fin tanto che rimane libera ma io credo che ormai abbiano capito che la cosa che devono fare è veramente per mettere le mani sull'informazione riuscire in qualche modo ad avere il controllo anche dei messaggi e della diffusione delle informazioni su internet attualmente probabilmente non è ancora così ma credo che ci siano delle diciamo delle che delle tendenze ad andare in questa direzione interessante un discorso che ha fatto Putin un anno o due fa mi sembra che Putin è un po' controverso diciamo dal mio punto di vista sembra che sia si opponga in qualche modo comunque a questo nuovo controllo mondiale ha affermato che realizzerà un nuovo internet un internet due diciamo che non sia sotto controllo di questi di che adesso stanno controllando quindi si entrerà probabilmente in un nuovo schema di contrapposizione però dalla contrapposizione se non è una contrapposizione di natura militare possono sicuramente nascere più libertà quindi dalla contrapposizione di idee sicuramente dalla contrapposizione economica anche può nascere sicuramente più libertà quando tutto è uniformato ovviamente non c'è possibilità di espressione da nessun punto di vista ecco questo più o meno è quello che penso anche se l'argomento è veramente il tema è veramente veramente molto complesso bene per questo video è tutto do appuntamento al prossimo e iscrivetevi al canale ciao